buongiorno a tutte e a tutti da salvorus in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro verso il mio negozio un'azienda informatica a siracusa e per chi volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9 e 30 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 20 sabato solo mattina la domenica chiuso per riposo settimanale allora stamattina io generalmente non parlo mai di diciamo argomenti che proprio riguardano le singole persone però siccome sono stato taggato in un posto da un amico che saluto e ringrazio stamattina mi voglio interessare di questa situazione un po' incresciosa ma non è solo il motore che vedete nel video è proprio un'aria a balneare che pur essendo utilizzate perché vedete ci sono tante bacche da diporto però meriterebbe sicuramente molto più rispetto c'è una sedia e spazzatura varia tra l'altro mi dicono che questo motore è stato messo per molto tempo alle mie spalle parcheggiato accanto al muro e poi qualcuno ha pensato bene purtroppo di buttarlo in acqua avanza una proposta intanto stamattina chiederò alla polizia municipale di intervenire per la rimozione anche perché questo motore comunque è un inquinante all'interno avrà sicuramente degli idrocarburi avrà dell'olio e non è il massimo per il mare no stamattina chiederò alla polizia municipale di intervenire e lancio anche una proposta qualora avessero dei bisogni sono disponibili infilarmi qua dentro e rimuoverlo da solo è impossibile perché non ce la si fa ma se siamo un paio di persone riusciamo a tirarlo fuori come vedete c'è un certo dislivello anche se più avanti comunque mi pare che ci siano dei gradini ora lancio un altro appello io suppongo che quest'aria sia diciamo in concessione a qualcuno che dovrebbe comunque provvedere a una sua pulizia sappiamo bene tutti che il mare di tutti sappiamo bene tutti che il mare va rispettato però questo non mi sembra il modo di rispettare un bene comune se il bene comune è dato in concessione a qualcuno è giusto che questo qualcuno si attivi al fine che questo bene rimanga pulito bene codice di oggi 16 16 si permetterà di vincere lunedì 27 alle ore 20 e 15 un buono amazon da 10 euro me ne vado a lavorare questo fine settimana ci riposeremo anche perché teoricamente oggi e domani dovrebbe piovere anche se oggi comunque è una giornata discreta prossimo appuntamento prossima diretta lunedì ciao da salvo russo